Carmine Giorgione, in poche settimane sei diventato uno dei nuovi idoli della tifosieria Gello Rosso. Come avevo già detto a Corner Messina, ma come anche altri giornali, penso che con lo spirito di sacrificio e con la voglia le persone si innamorano di come giochi, ma si sono innamorati proprio di tutta questa squadra, perché comunque ogni domenica facciamo vedere a tutti che siamo gli ultimi a morire. Per 48 ore in testa alla classifica, quali le sensazioni? Ma sono belle sensazioni, però noi ci dobbiamo sempre salvare, non lo dimentichiamo mai. Noi dobbiamo arrivare il prima possibile all'obiettivo salvezza e poi sognare non costa nulla. Se hai la prima esperienza al sud, che idea ti sei fatto di questo girone? Un girone difficilissimo, con squadre attrezzate e con tanti elementi di valore. Soprattutto poi ogni piazza con i propri tifosi si fa sentire. Domenica è stata una battaglia lì ad Andrea, ma per fortuna siamo usciti i vencitori. Sei un fedelissimo al tecnico di Napoli, sei stato anche uno dei primi ad arrivare in città. Sì, col mister c'è sempre stata stima, sin dall'inizio di Salona. Abbiamo avuto una telefonata in estate con lui, mi ha detto che c'è questa possibilità di venire a Messina. Io non ci ho pensato due volte. Quali le armi per superare la Lupa Castelli nella partita di sabato? Sicuramente tanta pazienza. Pazienza è la nostra caratteristica, che alla fine la nostra identità la voglia di non mollare, di riuscire a raggiungere l'obiettivo e il risultato. Grazie.